Un omicidio compiuto con premeditazione, con l'esclusione delle aggravanti per frutti e le motive, come scrisse nelle motivazioni della sentenza il gruppo del Tribunale di Trapani. Un omicidio maturato negli ambienti dello spaccio di droga d'Alcamo, che turbò l'opinione pubblica per l'efferatezza con il quale venne commesso, dove perse la vita Enrico Coraci, figlio di Nino, uno tra i più noti commercianti di abbigliamento, da anni impegnato come responsabile della ConfCommercio a tutela e crescita dal settore. Per l'omicidio di Enrico Coraci, avvenuto il 21 novembre due anni fa, sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Francesco e Vincenzo Gatto. I difensori dei due fratelli presentarono appello ed ora è stata fissata l'udienza del nuovo processo che sarà celebrato il prossimo 9 aprile davanti alla Corte d'Assiste d'Appello di Palermo, sezione seconda. Enrico Coraci, 34 anni, di Alcamo, fu ucciso con un colpo di fucile sparato a bruciapelo in via Ruise, nel quartiere popolare villaggio regionale di Alcamo. I due fratelli sono assistiti dagli avvocati Carmelo Carrara e Michele Magaddino. Nella sentenza del giudice Bonsignore è stato previsto per i due condannati, oltre alle pene accessorie, anche il pagamento di una provvisionale di 400 mila euro come risarcimento per i familiari di Coraci, i genitori e le due sorelle che si sono costituite a parte civile nel processo che si è rivolto a Trapani con l'unità abbreviato e anche in appello si costituiranno a parte civile. Sono assistiti dagli avvocati Antonino Vallone, Sebastiano Dara e Bruno Vivone. Per quanto ricostruito dagli inquirenti, l'omicidio è maturato per un regolamento di conti legato agli stupefacenti. Secondo i difensori dei due fratelli Gatto, invece, la violenta discussione è nata per futili motivi davanti a una parineria di pezza della Repubblica che venne chiusa dai carabinieri per la mancanza di alcune autorizzazioni. Con l'ergastolo per entrambi gli imputati, venne confermata la condanna chiesta dal Pubblico Ministerio Rosanna Penna, che in un primo momento aveva sollecitato 30 anni di reclusione per ciascuno dei due fratelli Gatto, ma poi, al termine della ringa finale, aveva riformulato la sua richiesta chiedendo la massima pena che venne accolta dal gruppo.